Ale, Milano, Ale, ma ragazzi ma che partita è stata? Ragazzi ma che, cioè, come faccio a commentare questa partita? Da dove parti a commentare una partita del genere? È stata una partita incredibile, sono stati quasi 90 minuti di noia e poi è successo di tutto. Allora partiamo con le note positive, allora nota positiva Rafa Leao. Ragazzi Rafa Leao, allora c'è il calcio, ok, sono giocatori che giocano a calcio, poi ci sono altri giocatori che giocano uno sport completamente diverso. Cioè ragazzi Rafa Leao fa parte, attualmente ed è ancora giovane, chissà cosa può diventare, fa parte del gota, guarda lì che sto guardando, attaccante, piede sinistro, 12, palle, mamma mia ragazzi, azioni da gol incredibile. Ragazzi Rafa Leao fa parte di quel gota di giocatori che sono di una categoria completamente diversa. Cioè Rafa Leao nell'ultimo gol che ha fatto ti dimostra che lui fa parte di una categoria completamente diversa. Rafa Leao numero uno assoluto. E partiamo da lui, che è la prima cosa che volevo raccontarvi perché è una delle cose più importanti. Seconda cosa, non posso non parlarvi del risultato, che è altra cosa positiva ovviamente il risultato. Queste sono le partite che poi a fine anno fanno la differenza tra chi vince i campionati e chi arrivi terzo, arrivi quarto, o magari arrivi più indietro o magari non vinci il campionato. Perché? Perché sono dei punti fondamentali giocate contro squadre a casa loro che rendono le partite collose, rendono le partite difficili, rendono le partite molto difficili da affrontare, sia tatticamente che anche fisicamente. Loro veramente una squadra molto tecnica, ma soprattutto anche molto fisica. Gol che trova Bairami, gol al 92esimo su punizione. Io vi dico una cosa, eravamo in diretta pochi minuti fa e mentre viene data la punizione per fallo di Benasser, io vedo Bairami che prende la palla, la mette giù e ho detto no. Perché poi lui c'ha tutto quello storico lì che è contro di noi, è sempre un po' così. Fa il gol e sono andato un pochino in depressione. Dopo il gol sono andato in depressione. Ma, ma, e ragazzi il canale ufficiale del Milan, andate a vedere la live reaction, palla al centrocampo e io dico, se c'è una giustizia divina, adesso facciamo il gol dell'1-2, ragazzi. Ragazzi, palla lunga, colpo di testa di Rade, se non ricordo male, palla che va sui piedi di Balloturè, ragazzi. Ballo e questo qua se lo merita, ballo, è uno dei miei pupilli, se lo merita, ragazzi. Gol di ballo del 2-1, che veramente, sono letteralmente esploso. Poi il 3-1 di Rafa Leao, ragazzi. Tra l'altro qua, una cosa che stavo dicendo adesso qua in redazione, una statistica abbastanza strana. Non so quante volte nella storia, nella storia intera di tutta la Serie A sia mai successo che vengano fatti addirittura tre gol nel recupero. Non lo so se è mai successo, probabilmente Mauro o qualcun altro, Luca, Serafini, magari qualcuno lo saprà. Io ovviamente, sapete che la mia memoria non è minimamente paragonabile alla loro, quindi io non lo so. Quindi queste erano tutte le note positive. Portiamo a casa tre punti. Abbiamo in squadra un giocatore che gioca un altro sport, che è Rafa Leao, che gioca un altro sport. Un altro, un altro, un altro. E queste sono le cose positive. Ovviamente tre punti. Rafa Leao e anche il gol di Balloturè. Adesso veniamo alle note negative. Perché ci sono anche le note negative? Le note negative sono quelle che mi fanno girare. Sono quelle che mi fanno girare. Voi sapete che quando tiro fuori questo è perché qualcosa mi fa girare. Ma perché? Ma perché, ragazzi? E lo dico guardando in alto. Perché ogni volta che dobbiamo giocare le partite importanti, entriamo in periodi importanti, la sfortuna si accanisce contro di noi e ci fa perdere i giocatori. già sei senza Mike, già Teo non sta bene, quindi deve recuperare anche Teo. Ti si fa male Davide? Davide, facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Davide per la sua pronta guarigione. Speriamo che torni il prima possibile. È uscito subito ghiaccio sulla gamba. Non lo so, non lo so. Spero di no, spero di no. Ma ho paura, spero di no. Poi speriamo che non sia un infortunio grave. Si fa male lui? Si fa male Salamakers? Nello stesso ruolo di esterno-destro, dove già oggi pomeriggio si era fatto male, avuto un risentimento muscolare, Walter Junior Messias. Quindi, in questo periodo, che adesso noi iniziamo, iniziamo, scusate, in questo periodo, nuove partite che arrivano, iniziamo un periodo di partite molto importanti. Voi venire qua a salutare. Ragazzi, ma dai! Abbiamo esultato come dei matmi, doni in campo. Io l'avevo detto, Balloture. Balloture. Men of the match, MVP. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao, ciao. E quindi, ragazzi, stavo dicendo questa cosa. Stavo dicendo che iniziamo questo periodo di partite importantissime. Porca vacca, ci si fanno male i giocatori. Però dai, l'importante oggi era portare a casa i tre punti. L'importante oggi era non far morire il vostro amico Lollo in diretta mentre guardavo la partita. Fino adesso mi tocco, ma fino adesso dovrebbe essere tutto ok. Ragazzi, un saluto a tutti. Ci vediamo domani per il video. Domani no, domani sono fuori a mangiare, quindi mi sa che domani è mezzogiorno non riesco. Nel caso ve lo faccio domani, nel tardo pomeriggio. Se no, ci vediamo lunedì. Un saluto a tutti. Ciao, CacciaVit. Forza Milan. E come sempre, vi ricordo di lasciare il pollice in su, iscrizione al canale. Ciao!